Ci godiamo questo punto che ci serve per proseguire un certo tipo di lavoro di crescita su questo gruppo che è un gruppo giovane a margini di miglioramento importanti secondo il mio punto di vista e ci deve servire per avere ancora più autostima e per farci lavorare un attimino con più serenità. Contentino? Probabile. Di sicuro meglio di un'eventuale terza sconfitta di fila però che avrebbe ulteriormente deteriorato l'autostima dei Biancorossi, già precaria dopo le sconfitte contro Viareggio e Benevento e alla luce del malcontento della piazza. Ecco perché il punto strappato al Nicola Ceravolo contro il Catanzaro va comunque accettato con moderata soddisfazione. Certo, servirà a poco nell'economia complessiva della stagione ma fa bene al morale. Il Barletta che ha affrontato a viso aperto la formazione calabrese in piena corsa addirittura per la promozione diretta è piaciuto nell'atteggiamento mentale e tattico. Sono stati bravi ragazzi perché avevamo preparato questa partita in settimana così per come poi si è svolta nel campo e hanno interpretato bene quello che gli era stato chiesto e merito a loro, merito a loro che sono sempre i calciatori, gli artefici. Il 4-2-3-1 scelto da Orlandi ha esaltato le qualità di Carlo Ilari a segno per la seconda partita consecutiva. È il centrocampista più in forma del Barletta già da alcune settimane e finalmente ha avuto la possibilità di dare un contributo importante alla causa bianco-rossa sin dal primo minuto. Non avevo dubbi sulla prestazione, poi quello che è il risultato è chiaro che è vincolato agli episodi, potevamo andare in vantaggio noi anche nel primo tempo però poi poteva esserci la beffa finale. Ora serve anche la vittoria al Puttilli che manca in campionato addirittura dallo scorso 26 maggio e cioè dal play-out di andata contro l'Andria. I protagonisti di quel giorno, Lamantia e Legretti, non ci saranno però contro la Nocerina nell'anticipo della sedicesima giornata, si giocherà sabato. Il primo perché è infortunato e tornerà in campo solo il prossimo anno, il secondo è sulla via della guarigione ma difficilmente sarà a disposizione e in ogni caso non è da escludere una partenza di Legretti nel mercato di gennaio. I bianco-rossi torneranno in campo mercoledì 18 e affronteranno sempre al Puttilli il Ponte d'Era nel recupero della quattordicesima giornata.